Ok ragazzi vi annuncio che stasera alle 8, intorno alle 8 iniziamo una live che sarà fatta sia qui su YouTube che su Twitch Quindi non mancate, sarà di Star Wars e vediamo un po' cosa verrà fuori ragazzi Facciamo ancora qualche prova e mi raccomando vi aspettiamo in live Stasera eh mi raccomando, cioè di sotto ci sono i vari link per andare su Twitch Per la live poi vabbè sapete che dovete trovare quando c'è la live su YouTube Vi arriverà al massimo l'annuncio per chi non ha fatto attivire la campanella così è sicuro che arrivi l'annuncio della live E ci vediamo stasera ragazzi